Bentornati su MyFootballGersey. Continuiamo con le anticipazioni per la prossima stagione. Quella che vedete è la maglia non ancora ufficiale dell'Arsenal, la seconda maglia in edizione Player. Grazie a tutti. A me questa maglia piace molto. Non è ancora ufficiale ma se dovesse rimanere così nella mia classifica prende 4 stelle. Molto bello il colore, molto bella la rifinitura e la bandiera sul fianco. Il costo lo vedete qui sopra. Vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Quindi molto vantaggioso. Non vi resta che mettere alla prova il sito. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari e quindi il costo diminuisce ulteriormente. Prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando regalateci un grande like e iscrivetevi al canale. E' l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. Che vediamo alla prossima.